vai vai puoi dare questo vuoi non è male di più da venenza non è male di loro c'è anche un bel fuoco là dietro anche roba senti che caldo che è è impressionante è 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 ancora no ma è 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 terra è 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 dietro è è è è è è una madonna ma non è rimasto più niente è è è è è è è ah ma facciamo pure una panoramica guarda lì non c'è più cazzo prova a fermarti un attimo qui lì occhio è che non è lì no ma impressionante è è è è è è senti il caldo questo è il caldo dell'incendio comunque ma vedi fin dove è arrivata ma il fronte è lungo un bel po' andiamo alla due dute la barca là cioè il fronte è lunghissimo e temo che nel mezzo abbia bruciato tutto a questo punto fai fai cioè te mi spieghi da cioè oggi era di là era di là del monte come cazza fatto a farlo arrivare di qua di un po' quella cos'è la guardia costiera? ma laggiù che cos'è che brucia? fiorenzuola bassa? ah non c'è la oh è il bar di valentino dove è? eh eh cioè non è lì non ne manca una massa ma io comunque nel mezzo non c'è più niente cioè praticamente è rimasto mezzo parco e ciòmbardo che strassio ma come è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' ma è impressionante no ma nel video è una roba pazzesca vedi tutto il fumo vedi anche tutta la collina bruciata no ma è roba il rumore è bestiale infatti sono due a me che vuole fare poi ci sta aderando c'è guarda come è asciutto adesso ok 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 guarda la luna rossa ma a sto punto il tetto del mondo ha bruciato no non è rimasto più niente niente praticamente ha bruciato ok 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 eh comunque guarda così nel video si vede è tutto completamente bruciato guarda se non i codi si vede un amico se non le braci non è rinforzato va Ok 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 Ah, manca di raro, va? Vi cappei neri, stacca fatta. puttana vacca pare anche così un po' come arde comunque c'è una moto d'acqua è il rumore che è impressionante sì il circolino lì vedi beh non è da stare proprio tanto tranquilli capisce ma per forza quella deve essere quella villa lì intanto comunque poi da come era oggi è stato un po' come era oggi Grazie a tutti.